Al Palasport di Frosinone è andato in scena il diciannovesimo turno tra Cassino e Rieti. Ad avere la meglio sono stati gli ospiti che hanno battuto gli uomini di Cocce Vettese per 85 a 75. Rieti voleva consolidare il secondo posto, Cassino voleva tornare al successo, ma il derby tutto laziale è andato ai reatini. Il match comincia all'insegna dell'equilibrio, le squadre si equivalgono e Rieti riesce a chiudere il game in vantaggio di soli tre lunghezze. Nel secondo quarto cambia tutto, gli ospiti allungano e mettono il parziale di 18 a 27. All'intervallo il punteggio è 33 a 45, a rientro dagli spogliatoi la Virtus Cassino prova a rialzare la testa, ma nell'ultimo quarto si arrende. Rieti allunga senza troppa fatica e torna a comandare con la doppia cifra abbondante. Nel finale i padroni di casa non riescono a ricucire lo strappo, Capitan Gigli trascina l'NPC alla vittoria per 85 a 75. Tredicesimo successo in 19 partite per Rieti con 26 punti che resta in solitaria dietro la capiolista Virtus Roma. Terza sconfitta invece per la BPC Virtus Cassino che si conferma fanalino di coda della classifica del girone ovest del campionato di Serie 2.